Marco Falaschi, regista della Nazionale, al tuo ritorno in Nazionale. Insomma, una sconfitta 3-2 con la Bulgaria nella prima delle due amichevoli che aprono la stagione azzurra. Una partita combattuta fino all'ultimo punto, fino all'ultimo set. Che partita è stata? È stata una partita, diciamo, da pre-stagione, se così possiamo definirla. Stiamo caricando molto con i pesi, è normale in questo periodo. Simo Giannelli si è unito a noi due giorni fa, quindi chiaramente anche lui è rientrato ora. Io cerco di fare il possibile, insomma, con questo gruppo, un gruppo nuovo. Stiamo lavorando molto in palestra, stiamo lavorando molto appunto anche con i pesi, quindi credo che si veda, l'abbiamo visto. Dobbiamo limare chiaramente un po' di situazioni, insomma, qualche errore di troppo ci sta. Però, insomma, prendiamo il positivo sempre. Abbiamo fatto, secondo me, dei buoni scambi di pallavolo in molti frangenti, altri un po' meno. Però, insomma, fa parte del giochino di questo momento. Domani si replica un doppio impegno che serve appunto per rodare i meccanismi e per capire cos'è questa Italia. Sì, domani ne facciamo un'altra e poi chiuderemo, diciamo, questa dieci giorni di collegiale. È normale, ci serve stare insieme, ci serve il gruppo, ci serve giocare insieme. Veniamo tutti da club differenti, quindi qualche attimo di rodaggio ci sta.